Allora, sembra uno scenario orribile. Ho visto di peggio. Scusi? No, sarebbe utile vedere di peggio. Stark, è arrivato. Banner? Come avevi detto? Allora che si metta l'armatura. La festa la facciamo da voi. Non mi sembra l'ideale per una festa. Dottor Banner, questo sarebbe un buon momento per arrabbiarsi. È questo il mio segreto, Capitano. Sono sempre arrabbiato. Tienilo. Capitano, Capitano. 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 Grazie a tutti.